esercizio numero 1 i burpees divaricate i piedi alla larghezza delle spalle scendete in posizioni di squat e mettete i palmi delle mani a terra davanti ai vostri piedi poi gettate le gambe indietro in modo da ritrovarvi nella posizione di plank con le braccia distese fate un piegamento mantenendo il corpo in equilibrio e toccando con il petto a terra una volta ritornati nella posizione di plank effettuate un piccolo saltello verso le mani per poi saltare in alto e staccare i piedi da terra corpo dritto e gambe distese i burpees sono estremamente completi e permettono di lavorare tutto il corpo inoltre bruciano anche tantissime calorie eseguite 10 burpees esercizio numero 2 mano gomito allungatevi a terra nella classica posizione del plank allineando spalle bacino e caviglie alzate uno dei due gomiti da terra appoggiando il palmo della mano al suolo a livello del secondo gomito per poi spingere e arrivare in posizione di plank con braccia distese tornate poi alla posizione iniziale e avete appena effettuato la prima ripetizione il plank mano gomito consente di lavorare gli addominali profondi per un ventre piatto ma anche dei tricipiti e braccia più toniche eseguite 12 ripetizioni esercizio numero 3 il climber mettetevi in posizione di plank a braccia distese fate avanzare un ginocchio fino a livello del busto prima poi di ritornare alla posizione iniziale e fare la stessa cosa con l'altro ginocchio avete appena fatto una ripetizione il climber è eccellente per rafforzare l'intera fascia addominale ed affinare la vostra silhouette eseguite 10 ripetizioni per gamba esercizio numero 4 russian twist sedetevi sul pavimento sollevate le gambe di qualche centimetro e contraete bene gli addominali continuando a respirare unite poi le mani davanti a voi per portarle sul lato sinistro toccando il suolo poi sul lato destro cercando di mantenere il bacino immobile ruota solo la parte superiore del corpo il russian twist è eccellente per far lavorare gli obliqui e avere una pancia piatta eseguite 16 ripetizioni per lato ecco il circuito completo con i quattro esercizi a seconda del vostro livello eseguite da 4 a 6 giri completi prendendo 30 secondi di recupero tra ogni esercizio associato ad un piano alimentare adatto questa sessione vi darà risultati eccellenti in poche settimane non mollate buon allenamento a tutti e a presto